Prime quattro chiacchiere con della stagione e non potevano non essere fatte con Gabriele Guastella che ha commentato per Radio Bruno questo grande successo dell'Empoli Gabriele io l'ho definito un successo del cuore più che altro perché veramente sul 2 a 2 poteva anche andare bene così, loro stavano facendo qualcosina in più ma il cuore azzurro ha prevalso e i tre punti sono andati a casa nostra Sì, innanzitutto buonasera a tutti gli amici di pianitempoli.it, ben trovati la curiosità che non l'ho detta nemmeno a Radio Bruno perché mi è venuta a mente proprio adesso pensando a quello che stavi dicendo te è che l'Empoli per vincere fuori deve vincere sempre 3 a 2 perché nelle ultime tre occasioni ci mettiamo questa, abbiamo sempre vinto 3 a 2 è successo a Padova nel novembre dello scorso anno, successe a Cesena e è risuccesso anche questa sera quindi probabilmente converrà giocarsi il 3 a 2 quando l'Empoli gioca fuori se lo vogliamo vedere vincere Senti, cosa ti è piaciuto dell'Empoli e dimmi che cosa non ti è piaciuto di queste Empoli di stasera perché comunque non è, diciamolo subito, tutto oro che luccica anche se noi in questo momento abbiamo ancora il cuore che va a mille e la vediamo ovviamente soltanto dal punto di vista della vittoria, però qualcosa non è andato cerchiamo di freddare anche un po' gli animi Sì, ma direi anche per fortuna qualcosa non è andato perché a me mi fanno paura quelle squadre che quando partano, partano e sono subito perfette questa invece è una squadra che pur convincendo a tratti e in certe situazioni ha ampi margini di miglioramento e questo è molto importante a me è piaciuto, l'ho detto anche durante la diretta con Radio Bruno tre cose in maniera particolare mi è piaciuto il fatto che Match Leeds giocando 20 minuti essendo arrivato in ritardo con tutto quello che sappiamo che è successo negli ultimi mesi in quei 20 minuti ha dimostrato di essere un giocatore di un'altra categoria a tratti si è portato a spasso anche 3-4 giocatori questo chiaramente testimonia il fatto che è un giocatore di assoluto valore mi è piaciuto Soriano, centrocampista, scuola Samp ma che ha due anni e mezzo di esperienza con i Bayern di Monaco in Germania non ce lo dimentichiamo che secondo me può davvero far molto bene e in generale per il calcio italiano è una promessa e con questo abbiamo secondo me un gran centrocampo con Musaci, Moro e Valdifioria tanta concorrenza tanta concorrenza, però la concorrenza positiva fa bene e poi mi è piaciuto il fatto che Coralli abbia realizzato subito alla prima giornata di campionato una doppietta quindi insomma io metto questi tre punti fondamentali senza tralasciare il fatto che Fabbrini ha realizzato un signor gol cosa non mi è piaciuto? beh, quando si vince specialmente in trasferta non è facile trovare quello che magari non ti è piaciuto non mi è piaciuto per esempio in certe circostanze non mi sono piaciuto in certe circostanze Vinci e Gotti che si sono, uso un termine toscano lasciati fregare un po' troppo facilmente dai nostri avversari però diciamo che anche loro sono giocatori che devono crescere quest'anno probabilmente avranno la possibilità di farlo Gotti ha subito nel gol dell'1-0 del momentaneo 1-0 del Frosinone con Santo Rufo probabilmente ha patito un po' l'esordio assoluto in Serie B però secondo me è una squadra molto giovane ma può fare molto bene secondo me comunque a questa squadra mancano quei due ritocchini non sto a dire dove intanto è stato il tifosi azzurri lo sanno con questi due ritocchini azzeccati potremmo davvero toglierci delle soddisfazioni Tu hai fatto dei nomi, io te ne faccio un'altra perché secondo me è quello che ha fatto il precampionato in positivo più sorprendente e stasera ha fatto un'altra grande prestazione Riccardo Nardini Sì, sì, anche Nardini prova positiva però Nardini non è un giovane è un giocatore che ha alle spalle diverse stagioni diverse esperienze se non ricordo male ha anche una stagione a Reggio Calabria con la Regina Certo Io onestamente già conoscevo Nardini può essere una sorpresa perché arriva dal campionato di prima divisione però Nardini quando Lempoli acquistò questo giocatore io onestamente sapevo che avrebbe potuto far bene Il modulo che sta adottando Mestralietti ti piace, ti convince? Ma a me francamente non piace parlare di moduli perché per me un allenatore bravo è bravo quando a seconda dei giocatori che ha riesce a trovare il modulo giusto e il gioco giusto Per me è una squadra quando è duttile quindi ha la possibilità di esprimersi in tanti modi quando una squadra può fare questo è una squadra forte perché di per sé anche le formazioni avversarie non sanno mai come giocherà e quindi come affrontarla Diciamo che Aglietti per il momento è stato molto bravo perché ha debuttato in Coppa Italia dei Grandi vincendo 4-1 con la Reggiana ha debuttato in Serie B vincendo 3-2 a Frosinone e non era facile quindi insomma per il momento lasciamo da parte il discorso dei moduli ne parleremo più avanti anche perché è sempre agosto Prendiamoci questi tre punti però insomma stiamo ovviamente con i piedi ben saldi per terra il campionato è lungo un campionato difficilissimo questo di Serie B con delle squadre molto molto attrezzate secondo te l'Empoli ad oggi dove lo potremo collocare in una virtuale ovviamente virtuale classifica? No io direi che ancora è presto l'Empoli è una squadra secondo me indecifrabile indecifrabile e può essere anche un fatto positivo questo è una squadra che parte senza dubbio a fare i spenti l'obiettivo è quello di mantenere la categoria perché non ci dimentichiamo che la Serie B per Empoli è sempre un valore aggiunto è molto importante è una mini Serie A noi veniamo da Serie A e Coppa BF e quindi ovviamente per noi pare che giocare in Serie B sia una cosa riduttiva ma la Serie B è una categoria che l'Empoli e la città e il popolo sportivo di Empoli deve assolutamente difendere con le unghie e con i denti partiamo a fare i spenti vediamo strada facendo quali sono le nostre potenzialità quello che possiamo fare il campionato di Serie B è un campionato strano oggi Livorno, tanto per fare un esempio ha iniziato il proprio cammino partendo con uno 0-4 casalingo contro il Sassuolo questo penso che è la dica lunga su quello che è la Serie B congeliamoci dagli amici di Prenditempoli.it ti lascio fare il saluto finale ricordando che questa stagione sarà una stagione molto molto importante per Prenditempoli.it non svegliamo tante cose ma ci saranno tante sorprese positive speriamo noi avevamo fatto le quattro chiacchiere con a Modena con alle spalle la famosa curva dove festeggiamo la Serie B 14 anni fa nel 1996 e avevamo fatto alcune promesse che erano quelle che non avremmo mai abbandonato i tifosi azzurri durante tutta l'estate abbiamo addirittura e qui faccio i complimenti a Tialessio e alla Camera abbiamo addirittura trasmesso tutte le sintesi di tutte le gare amichevoli addirittura anche la sintesi della Coppa Italia quindi ringraziamo l'Empoli per le concessioni anche ovviamente stavo arrivando proprio a quello da soli non riusciamo mai a fare niente questo è ovvio possiamo dire anche perché abbiamo scritto in settimana che c'è una nuova entrata nella redazione nel pool di Prenditempoli.it che è Fabrizio Fioravanti che curerà il settore giovanile era un piccolo quadratino che mancava nella scorsa stagione poi ci saranno altre sorprese che vedranno i tifosi azzurri durante la stagione la stagione noi abbiamo il cuore bianco-azzurro e quindi ovviamente cerchiamo sempre di fare il possibile per i tifosi azzurri come noi lo siamo grazie Gabriele grazie a te e grazie a voi grazie a tutti